ciao oggi faremo un video bellissimo cosa hai detto emma ieri cosa volevi fare ecco ti accontentata faremo la disney challenge ok e per accontentare la debi la faremo a squadre non individuale perfetto ok allora per favore emma mettiti in squadra la debora così contenta ok dopo diventate gelose allora devo dare delle gioie anche a voi faccio la squadra no su vi arrangiate voi ok ci siamo scherzo ovviamente squadre capitane emma e debora scherzo scherzo emma e giada ovviamente vabbè te o te o lei sapete siete brave alzate la voce perché sennò noi vediamo solo che muovete la bocca ma non sentiamo niente si siamo dispari fa niente fa niente ok allora l'unica cosa che vi dico è che ogni voi una per squadra ovviamente e decidete un ordine perché ogni volta deve essere una persona diversa vabbè un po difficile dobbiamo fare ok e vabbè basta che vi date la sequenza basta che vi date la sequenza e siete a posto ok allora tornate andate pure ai vostri posti quindi si parte tutti da rosso la prima che tocca questo tappeto dove c'è il segno rosso vince allora iniziamo non so se è così non è meglio un più vicino in cerchio vabbè arrangiatevi fate come volete allora attenzione durante il film la spada nella roccia il protagonista semola cade dal ramo di un albero e dove finisce in uno stagno no no nel fiume no in un burrone no sarebbe già finito il film ragazze sulla roccia no allora ripeto durante il film rivedetevi il film nella mente durante il film la spada nella roccia il protagonista semola cade dal ramo di un albero e dove finisce nel prato dove c'era la roccia con la spada no 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 manca qualcosa nella spada no come nella spada come nella spada no no manca qualcosa nella montagna ma valla sulla montagna sul tetto sul tetto di cosa sul tetto del castello no di una casa si dire a tu no della strega ma che del mago si si chi si chiama chi si chiama Merlino punto per la squadra di Nicola Giusy mi segni i punti ma io mi ho fatto il rispetto della casa eh però di chi la casa ma allora nessuno non lo sapeva nessuno ok zero a zero zero a zero attenzione sappiate che il prossimo quello che è indovinato appunto eh non mi interessa se un primo lo dice uno poi dice l'altra alla fine hanno indovinato loro zero a zero stavolta zero a zero partiamo nel cartellone nel cartone Disney Aladdin chi prende il rubino facendo chiudere la caverna delle meraviglie bravissima quali sono i tre animali protagonista dell'era glaciale un mammut un bradipo e una tigre dai denti a sciabola bravissima attenzione ragazzi che adesso un altro componente della vostra squadra deve correre dovete fare a rotazione ok non più Giada non più Emma fino a quando non avete finito il giro chiaro? chiaro rispondete sì ok dove è seduta Mary Poppins quando compare per la prima volta nel film brava sulla nuvola sì giusto Irene non può più correre ma suggerire la risposta e correre le altre compagne qual è il grande sogno di Tiana la protagonista della storia Disney la principessa il ranocchio dai di aprire il suo locale tipo il ristorante bravissima la famiglia degli incredibili è composta da quante persone quattro no cinque 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 amore non ti ho mai detto una volta non si può più cinque punto alla squadra di Nicola attenzione nel film Lilo e Stitch dove Lilo trova Stitch Martina non puoi più tu vai attacca nel canile giusto qual è la prima ragazzi silenzio se non devo urlare qual è la prima cosa che Mary Poppins estrae dalla sua sorprendente borsa l'ombrello no ci sei quasi eh più o meno Laila lo specchio no Letizia sei già l'appendiabiti sì Laila vieni qua nel film di animazione Robin Hood durante la gara di tiro con l'arco Robin va in finale con chi di qua vai là il re no non è un re no con la ragazza no avete fatto un verso quello è l'inizio della parola ma mi sai che era solo un sh appunto sh dai con la lana di serpente no inizia con sh dai sh la sceriffo sì sceriffo di Nottingham nel film Laila non puoi co-giocare anche te vieni qua dai veloce guarda come ti guarda vuol giocare anche te che sguardo nel film alla ricerca di Nemo la prima volta che si aspetta che che compare no non ti arronterà se no non si sente allora nel film alla ricerca di Nemo la prima volta che compare scusate attimo di panico la prima volta che compare Nemo è eccitatissimo perché 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 va a scuola sì e cos'è va a scuola tutti i giorni o è il primo primo giorno sì ah ok vabbè ma andava bene la rosa ok quanto siamo non lo so attenzione dai la vieni qua dai vieni via attente in ribelle la mamma viene trasformata in quale animale l'orso no ma ragazzi della vostra squadra una sono arrivata prima io l'orso è l'orso è giusto giusto ma della vostra squadra una deve partecipare non tre che brutto quel film quindi adesso può correre la camilla e basta avete finito il giro qual è il nome del drago nero amico di Icoup in Dragon Trainer stentato brava stentato nel film Lilo e Stitch chi vive con chi vive Lilo con la sorella no dai ma non con la sorella è giusto ma chi è che è arrivata prima io vabbè rifacciamo scusa no punto tutte e due sono arrivate pari mi sembra voi io l'avrei rifatto chi arriva per prima tanto la risposta la sanno già qual è il nome della mamma allungabile degli incredibili è la stick girl sì ok ultima domanda nel film di Mary Poppins qual è l'indirizzo della famiglia Banks non sono in più c'è la ciliegia quindi via ciliegia albero di ciliegia no via tornate a posto che giorno sono nata io il numero torna a posto pensa alla risposta via delle ciliegie 17 sarebbe via via delle 17 ciliegie 17 numero perfetto brava facciamone ancora uno dai che mi piace ah infatti sì bello qual è il nome dell'asino chiacchierone amico di Shrek giusto ragazze cos'è che non riuscite a comprendere del correre uno alla volta ok venite qua per favore la gara è terminata vi siete divertite? è troppo bello no però non leggere le altre poi le usiamo ancora ok allora avvicinatevi che non vi vedo chi ha vinto Giusy? vince la squadra di Emma 10 punti contro 6 punti della squadra di Giada Giusy è imparata che non si può correre sempre gente vabbè qualche cosa dobbiamo metterla no di ostacolo mi piaceva ridere la patta perché tu le giri la domanda lei mi parlava non è anche noi speriamo che questo video vi sia piaciuto lasciate tanti like e iscrivetevi al nostro canale se non l'avete ancora fatto ciao 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 Grazie a tutti